per questo video per questo video abbiamo bisogno della sedia di nonno gilberto e allora e allora inquadratura è tutta sostanziale oh no si sta scaricando devo fare macchine allora vediamo si sta scaricando la fotocamera devo schiaffeggiare 10.000 volte il cartone e vedere se prende fuoco iniziamo subito raga mi raccomando iscrivetevi lasciate un bel like e saluto a tutti quanti comunque sta iniziando a prendere un pot di fuoco adesso dopo che abbiamo dato quasi tipo 100.000 colpi dobbiamo arrostirlo un pochino questo cartone quindi con molta leggerezza aiuto le mani aiuto le mani sono un tamburellista del medio oriente raga veramente stra difficile non sta prendendo fuoco però si sta pure scaricando la fotocamera cartone della samsung quasi che mi serve un bello slurp di fortnite anche per le capelli molto buono il cartone cartone sostanzioso c'ho metà faccia scura scusatemi raga la luce cartone cartone bello soltanzioso muori cartone raga sta prendendo fuoco è diventato un pezzo di lava si sta bruciando vi ricordo tiktok e iscrivervi con la campanellina bello cartonino la mano non me la sento più ma raga ma questo video ha veramente senso apriti il tesamo raga adesso voglio fare una cosa col polistirolo l'ho sempre sognata guardate cosa farò adesso col polistirolo 3 2 1 adesso dobbiamo infuocare il polistirolo mi raccomando mettete nel supporto un cretore già 12 pro era sushi raga era tipo crudo sa tipo di petrolio comunque volevo dirvi perchè quanto riguarda è lo shop uscito tra qualche giorno lo shop quello delle magliette sostanziali e l'ho si i i i i i i i Grazie a tutti